che due coglioni che due coglioni ragazzi che due coglioni che palle che palle di partita mamma mia ma pensate quelli che vanno allo stadio a vedere sto schifo che mamma mia tre tiri in tutta la partita due tiri e mezzo sì adesso sei contento perché hai vinto perché ovviamente hai vinto contro il real lecce hai vinto però la madonna che paio di coglioni che paio di coglioni vi ho detto la juventus è questa adesso vince una zero con lecce che era che era che era ancora imbattuto il prossimo non so che mi pare che abbiamo il derby adesso non neanche non mi ricordo so che abbiamo le prossime c'è il torino e il milan è ancora una che neanche non mi ricordo chi è magari la prossima perderanno poi pareggiano una questa è la juventus questa qui è la questa qua è questa questa è la juvetta questa è la juvetta fai il primo tempo deprimente poi fai l'uno a zero speculi speculi sempre sull'uno a zero a parte chiesa perché se non c'è chiesa che illumina un po il resto è tutto 0 0 0 totale questa è la juve cosa vuoi dire di altro uno schifo uno schifo guardate che io sono un risultato io sono un risultatista è prima di tutto a me prima di tutto interessa il risultato sono sempre stato così io però porca di una troia che coglioni che coglioni che coglioni su dai ragazzi a me non piace questo calcio dai su io vorrei adesso prendere 10 20 30 di voi che mi guardano e fare la domanda a tutti quanti vi piace questo calcio io penso che neanche uno mi risponde di sì neanche uno neanche una bom portiamoci casa questa vittoria siamo a tre punti dai prescritti ma c'è ma io non mi ludo per il campionato ragazzi io non mi ludo per campionato a me basta arrivare entro le prime quattro perché già so che campionato lo vincono loro prima di tutto poi ovviamente c'è il milan il napoli napoli mi sta deludendo di brutto mi sta deludendo di brutto ma sapevo che era che era questione di allenatore il 90 per cento è questione di allenatore gira tutto attorno all'allenatore l'allenatore quello che mette i giocatori in campo l'allenatore è quello che dà il vestito alla squadra l'allenatore è quello che imposta la squadra è inutile girarci intorno cadiamo sempre lì l'allenatore la pedina più importante della squadra se no dopo ovviamente c'è la nata che ti va tutto bene l'allenatore dove si incastra tutto come è andato bene al napoli non metto non lo metto in dubbio però vedete la differenza fra garcia e spalletti garcia e spalletti per me è sempre stato un ottimo allenatore garcia è il come come dice quell'altro è l'allegri della fede francese garcia l'allegri francese quello che il violinista avete visto garcia è questo comunque a parte il napoli troviamo la juventus scontento del risultato ma che coglioni ragazzi che coglioni che coglioni che coglioni che coglioni allegri adesso vincerà uno zero adesso di nuovo gli altri avranno fuori allegretti ha vinto davvero lo stesso vince una zero allegretti andate a fare in culo ve lo dico già adesso perché già già prevedo che adesso arriverà qualche video su youtube di qualche allegretto a rompere il cazzo andate a fare in culo subito ve lo dico adesso ci vediamo la prossima iscrivetevi sempre al canale iscrivetevi sempre al canale di michelone perché iscriversi al canale non costa nulla come dico sempre è un iscritto il giorno toglie il medico di torno bacione a tutti buonanotte e ci vediamo domani per approfondimenti per il giorno dopo ok ragazzi ciao belli